E' giunto il momento Io sono pronto Devi solo mettere una boccetta piccola Ok quanto va? Ma che c***o? Aspettate la camera sta registrando Oh f**k Eh già è giunto il momento di provarlo Non faccio neanche la intro partiamo subito Non so che non mi si vede mi si vedranno solo le mani Allora ragazzi lo faccio davanti a voi per quelli che non ci credono Il liquido è pronto L'abbiamo lasciato un po' riposare O ridò una mescolata veloce con la pompetta Preparo già Questo strofinaccio Per chi non sapesse cosa è lo strofinaccio E' un panno Col quale si asciuga E andiamo a riempire Questo abominio Io ho veramente paura ragazzi di quello che Andrò ad assaggiare Ok lo metto qua così vedete tutti 1 2 Mettiamo ancora 1 e basta E' un po' riposare Un po' riposare E' un po' riposare E' un po' riposare Ok Tappiamo un satana Spostiamolo Puliamo la pompetta Ok perfetto Andiamo a chiudere il liquido E' assaggiarlo Allora la box disegnata Era appunto La tugboat Con il seminole Speriamo bene Ecco qui E' tutto pronto Andiamo ad accendere la box Andiamo a togliere Asseccare un po' il cotone Perché non utilizzo del cotone nuovo Per il semplice motivo Che non voglio buttarlo via Che ovviamente Dopo questa svappata Dovrò andare completamente A cambiare cotone Ok evitiamo di fare flambè Vi ricordate cosa c'era scritto KJ2 Eccolo qua Porca miseria Allora Mettiamo tutto il cotone Coil ben bagnate Il liquido è quello Vi giuro su quello che volete Che non l'ho cambiato Ok Ok Oh mio dio Che cosa hanno sentito i minarici? Proviamo Allora Allora Si sente l'alcol Ma non si capisce Che alcol è Si sente Si sente La pera e la mela E' qualcosa di orrendo Signori miei Veramente Si sente poco il latte e la cannella Però si sente Il fruttato del Unicorn V2 Altro sinceramente Non riesco a distinguerlo Vabbia Vabbia Sto scoppando la manetta Sto scoppando la manetta Abbassiamo un po' Non si ridistingue altro Io in generale riesco a distinguere i cereali al cioccolato L'alcol L'alcol che però è diventato qualcosa di strano Cioè un miscuglio che non si definisce Si sente il latte dell'unicorn V2 Si sente anche la frutta Si sentono i canditi del panettone Manca Non si sente nient'altro però sinceramente Si conclude qui la sesta puntata Se non sbaglio di Esperimenti con i liquidi In questo caso non lo farò mai più Ve lo prometto una cosa del genere Dall'angolo dello swap è tutto Il vostro DJ Vise conclude Quindi va a dirvi Buona Buona swapoppa Oddio che schifo Sparatevi mi prego Diretare dell'alcol Oopers floating 3 Grazie.